Agricoltura, inclusione e lavoro. Si chiama AgriLav, il progetto portato avanti dall'apicoltore Luca Bianchi nella sua azienda agricola a Fabriano. Un'iniziativa che intende promuovere il valore della produzione biologica in un percorso di scoperta e formazione che coinvolge nel mondo agricolo ragazzi con disabilità. Ci si adatta a fare i lavori che sono fondamentali e necessari in quel periodo della stagione. In questo momento, essendo arrivata da poco la primavera, stiamo lavorando per mettere giù le prime piantine. Coltivare piantine, innaffiare l'orto, dare da mangiare agli animali. Così i giovani della cooperativa Castelvecchio Service fanno terapia di inclusione e apprendono le pratiche agricole. Per i ragazzi è un'occasione formativa, è un'occasione di integrazione sociale, è un'occasione per imparare nozioni teoriche ma anche pratiche. A me piace, ci piace molto, sta l'aria aperta. Abbiamo dipinto le ardie, delle api e poi faremo il miele, faremo tante cose. Questa, ad esempio, è la macina a pietra e qui i ragazzi lavorano il grano per produrre farina. Mettiamo il grano qua dentro e la macchina lavora e poi c'è la farina. E poi con la farina cosa ci fanno? Il pane. I giovani, infatti, gestiscono un forno solidare in città dove vendono biscotti e dolciumi. Da qui l'idea del progetto, finanziato dalla Regione Marche, per dare lustro al ciclo vitale dei prodotti della natura, dalla terra alla tavola. Grazie. 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 Grazie.